Dalla stampa spagnola è arrivata la notizia che Ronaldinho vorrebbe ritirarsi, addirittura ritirarsi. Non si sente più motivato ad andare avanti. È una notizia clamorosa, Livia stiamo cercando riscontri, il sito del Milan non commenta. No, in questo momento non commenta, che per noi è la fonte ufficiale. Inevitabilmente c'è molta allarme tra i tifosi rossoneri, tanti sms che parlano di Ronaldinho. Per esempio questo, sono un tifoso interista e amo il calcio, penso che Ronaldinho deve tornare in Brasile per ritrovare la felicità. Questo non si ritrova, prende 7 milioni e mezzo e questo non si ritrova. Un po' meno. 7 milioni? Ma che prende 7 milioni e questo non sta bene, non si ritrova, non ha stimoli? Ma che vada a casa, non mandare in fabbrica, poi vedi 7 milioni come gli dà gli stimoli. È un discorso un po' populista. Ma dai, non è fabbrica per modo di dire, però non mi puoi dire che uno che prende 7 milioni e gioca in una società come il Milan non trova gli stimoli. 583 mila euro al mese, prende. Sì, cioè un miliardo e 140 al mese. Non ha stimoli, al mese, non ha stimoli, ma va in Brasile, dai retta a Franco Ricci. Allora, un miliardo!